salve a tutti oggi vi presento un nuovo video è un video che abbiamo fatto i primi di agosto a comacchio poi ritorno al successo un fatto che poi vedrete e cercherete magari anche voi di darmi una spiegazione perché ancora non ho capito perché ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace e commentate pure non c'è nessun problema lascio il video ciao buongiorno a tutti oggi è lunedì 8 agosto stiamo facendo un giro tranquillo mio mio amico siamo già stati a comacchio quindi niente di che la strada per arrivare tutta dritta quindi un po noiosa abbiamo fatto la romea un po trafficata ma comunque la più corta vi allegro qualche immagine di comacchio stai Musica Spero che il video su Comacchio vi sia piaciuto Adesso ci stiamo dirigendo verso Scardovari Poi vediamo se andiamo a mangiare in un ristorante di quelli che ha partecipato a quattro ristoranti di Borghese La strada sarà noiosa sicuramente perché non c'è guazzo qua Qua ci sono solo autovelox Insomma la Romea è famosa per essere disseminata di autovelox qua e là Le mettono sempre nei limiti di 70-90 Non ne ho visto neanche uno fino ad ora sui limiti di 50 Quindi è già qualcosa dai Qui c'è Pomposa Dove una volta si mettevano a vendere le piadine Questo è il punto in cui ho rischiato di cadere Io non ho capito perché, per cosa, per come Perché la gomma non era fredda perché c'erano 40 gradi Per terra anche guardando video non ho visto niente Quindi non era una strada sporca Lo sterzo non l'ho girato neanche tanto perché è praticamente fermo Quindi magari ditemi voi se vi è capitata la stessa cosa In questa maniera o in un'altra maniera Io non so Io non so